Grazie a Pierino Martinelli, direttore di Fondazione Fontana, organizzazione che sempre crede e investe in questa ipotesi culturale che Martinelli ci ha comunicato, e cioè attenzione all'autoreferenzialità quando pensiamo e facciamo cooperazione e al pari molta attenzione ad autointerrogarsi, a interrogare la propria azione e a comprendere, a sviluppare conoscenza sui temi che di volta in volta caratterizzano la progettualità della cooperazione internazionale in senso lato. E a proposito di temi, oggi appunto vorremmo ragionare sul rapporto tra interventi di cooperazione e cambiamenti climatici. Parlare di cambiamenti climatici, come sappiamo, chiama in causa molteplici livelli e molteplici questioni. C'è una questione di ordine scientifico e Roberto Barbiero ci aiuterà a comprenderla meglio, quali sono i fondamenti scientifici, i dati a fondamento del problema del cambiamento climatico. C'è una questione di ordine politico, ci sono degli accordi, degli accordi di Parigi previsti per arginare il problema del cambiamento climatico, ma accordi che trovano difficile attuazione, sancendo forse una distinzione tra i decisori politici a livello globale e la società civile che interviene nelle comunità. Distinzione anch'essa da problematizzare tuttavia per evitare di cadere in un manicheismo buoni cattivi. C'è una questione, diciamo così, di giustizia, una questione morale, una questione di giustizia internazionale perché sappiamo che i cambiamenti climatici conseguenti al surriscaldamento del pianeta avranno impatti differenti a seconda delle zone del pianeta. Ci sono luoghi, comunità più esposti e meno attrezzati a farvi fronte. C'è una questione, direi, di tipo antropologico, nel senso che trattare di cambiamento climatico, provare a capire in che cosa consiste, ci pone di fronte almeno a due ordini di problemi. Il primo è il fatto che la consapevolezza di una catastrofe imminente non è sufficiente a innescare un'azione che vi ponga a rimedio. nulla di nuovo, da un punto di vista così di comportamento dell'umano, tuttavia è una questione non da poco. Noi stiamo andando come Homo sapiens sapiens verso una catastrofe naturale, umana, relazionale, tuttavia pare che non riusciamo a far sì che questa consapevolezza diventi azione. Seconda questione, il rapporto natura-cultura, da un punto di vista più filosofico. Il problema dei cambiamenti climatici ci pone, come dire, la questione dell'istinto e dell'azione predatoria della dimensione antropologica e culturale nei confronti dell'ecosfera, degli ecosistemi della natura. Ma di questo ci aiuterà a ragionare ancor meglio Mauro Van Haken, che ci porterà un contributo proprio di natura antropologica. Non sottraggo altro tempo ai contributi dei relatori, se non per dire che l'obiettivo e la finalità che caratterizza questo seminario è proprio quella di presentare, offrire e dialogare con voi, da un lato, delle chiavi interpretative rispetto al fenomeno. Vogliamo capire meglio, meglio comprendere che cosa sta avvenendo, che cosa caratterizza tutto il mondo dei cambiamenti climatici in rapporto agli interventi di cooperazione e dall'altro lato, oltre alle chiavi interpretative, naturalmente l'individuare degli spunti di azione e di intervento, a partire proprio dalle idee, dalle rappresentazioni che mettiamo a fuoco e dai nomi che diamo al tema che stiamo insieme sviluppando. Vi presento il programma, l'avete in cartellina, dove è raccolto anche materiale che Fondazione Fontana prepara sempre in modo accurato, non è accessorio per noi questo. Allora avremo innanzitutto l'intervento di Roberto Barbiero, quindi un intervento di taglio scientifico. Barbiero lavora all'Osservatorio Trentino sul clima della provincia autonoma di Trento e ha una, come dire, doppia valenza professionale per noi molto preziosa. Da un lato è un tecnico esperto e dall'altro lato è anche un divulgatore scientifico. La divulgazione scientifica è un'azione assai utile e importante quando affrontiamo argomenti così complessi che richiedono anche delle nozioni scientifiche di fatto. Dopodiché ascolteremo la relazione di Mauro Van Haken dell'Università Milano Bicocca, in particolare del Dipartimento Formazione Riccardo Masso, uno dei luoghi in tema di sapere sulla formazione più rilevanti nel nostro paese. Al dottor Van Haken abbiamo chiesto di aiutarci invece a mettere a fuoco la questione antropologica, quindi quel rapporto natura-cultura, come viene pensata la natura, quali sono i processi culturali che attraversano il tema dei cambiamenti climatici. Proseguiremo poi con l'intervento di Massimo Zortea, avvocato ambientale, a lungo si è occupato di cooperazione ambientale, che ci aiuterà a ragionare invece su come, su cosa e come integrare in termini di sostenibilità ambientale nei progetti di cooperazione internazionale, ossia con questo terzo intervento entreremo più nel merito del nesso tra cooperazione internazionale e cambiamenti climatici. Quindi andremo un po' a vedere che cosa intendiamo per sostenibilità ambientale, che cosa la caratterizza e con quali metodologie si può ispirare i progetti che vengono realizzati. Nel mezzo faremo una pausa e dopo il pranzo riprenderemo con alcuni contributi di natura come dire più pratica, volti a evidenziare ragionamenti e concetti relativi alle pratiche di intervento. Ve li presenterò nel seguito, nel corso della mattinata. Non ultimo, altrimenti mi sgridano, nella cartellina trovate anche un questionario di valutazione che vi preghiamo di compilare a conclusione di questo seminario, perché per noi è importante avere da voi presenti un feedback rispetto al lavoro che avremo provato a sviluppare con voi, al lavoro barbiero. L'impresa odierna sarà non crollare da questo palco, che è un po' sopraelevato e quindi ci costringe a una serie di attenzioni pratiche. Anche perché non riusciamo a star fermi, i due relatori si muoveranno un attimo, abbiamo già concordato questo. Intanto grazie, grazie per l'opportunità di essere qui a fare questo momento di seminario. Mi auguro di dare un modesto e umile contributo alla conoscenza dal punto di vista scientifico, ma veramente sono molto stimolato nel vedere agli altri relatori anche nel dibattito che mi auguro seguirà. Sono qua anche per imparare un mucchio di cose che ci sono utili a capire oggi una complessità estrema di un fenomeno che è però in realtà all'ordine del giorno. Non a caso abbiamo fuori oggi degli studenti che stanno mettendo in pratica questo sciopero sul clima, ma credo che basta guardare i giornali in questo periodo e nel bene e nel male la discussione sul tema cambiamenti climatici è tutto sommato all'ordine del giorno. E poi mi auguro davvero che, visto il tipo di competenze che avete, anche l'obiettivo di questo seminario, mi auguro che ci sarà poi uno scambio, insomma un dibattito, perché credo che è un'esperienza enorme quella che avete e che potete trasmettere in questa discussione. Ora vado quindi veloce, adesso entriamo nel dettaglio e parto da questa slide di Altan che è abbastanza emblematica rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Siamo sull'orlo del baratro, diceva prima stiamo ormai vivendo le dimensioni di una catastrofe verso la quale ci stiamo avvicinando. Può far paura o no, può essere resa tragica o no sta parola, ma di fatto è anche dai dati scientifici che osserviamo. E la reazione del goditi il panorama, cioè tutto sommato chi se ne frega di quello che sta succedendo, forse non stiamo capendo quello che sta succedendo, è un po' la reazione ambigua di parte probabilmente della società civile, di parte della politica, che dovremmo cercare di superare. Io sono sicuro, sono convinto che voi, noi, possiamo dare sicuramente un contributo di comprensione, di reazione positiva da questo punto di vista. Parto da la citazione di questo libro che a me è piaciuto e nelle notti un po' insonni ogni tanto ripercorro. Amitav Ghosh è uno scrittore indiano, il titolo del libro è emblematico La grande cecità, il cambiamento climatico e l'impensabile. Il dubbio mi viene perché non riusciamo a vedere che cosa sta succedendo o forse non vogliamo vedere che cosa sta succedendo. È un libro molto interessante perché è il punto di vista di uno scrittore, di un esperto che è dall'altra parte del mondo, cioè non è nel contesto occidentale, ma tra le tante cose molto interessanti che ha scritto c'è un punto secondo me emblematico nel quale dice che gli eventi climatici della nostra era sono il distillato di tutta la storia umana, esprimono l'interezza del nostro essere nel tempo. Cioè quello che sta succedendo non è altro che la logica conseguenza di un percorso storico di società, di economia, di cultura che abbiamo imposto, soprattutto come paesi occidentali come vedremo. Ma andiamo nella parte scientifica, che cosa sta succedendo di così problematico che ci preoccupa? Vedremo alcune osservazioni di carattere scientifico rispetto a un clima che senza dubbio è cambiato nel passato. Ci interessa la parte della storia che stiamo vivendo, la parte più recente, quello che succederà evidentemente nei prossimi decenni. Quindi sono due gli elementi su cui ci soffermeremo. Il primo è la velocità con cui il nostro pianeta si sta riscaldando, quindi come ha accelerato negli ultimi anni questa fase di riscaldamento, e la seconda il contributo che stiamo dando come umanità. Cioè il ruolo dell'uomo nel sistema clima che evidentemente nell'epoca passata non c'era, non c'è stato. Andiamo a vedere alcuni dati dal punto di vista scientifico. Questo grafico che vedete ci dà l'idea dell'andamento medio della temperatura del pianeta osservato dalla metà del 1800 all'anno scorso. Sono cinque database differenti dei principali centri di ricerca internazionali che quindi sostanzialmente concordano e possiamo vedere com'è l'andamento medio della temperatura, espresso come l'asse sulla sinistra media della temperatura effettiva planetaria, e invece a destra espressa come anomalia, cioè come differenza rispetto alla temperatura stimata nell'era cosiddetta pre-industriale. E vediamo due cose interessanti, come la fase di riscaldamento effettivamente ha cominciato ad accelerare tra gli anni 70 e 80, cioè abbiamo un aumento del medio della temperatura più veloce della temperatura planetaria, ma il dato che ci interessa, che dobbiamo tenere presente nelle osservazioni che successive, è che ormai abbiamo stabilmente assunto un aumento della temperatura media del pianeta di circa un grado, 1,1 grado centigrado rispetto all'era pre-industriale. E questo è un dato importante di riferimento dal quale anche parte, poi tutta vedremo la discussione dell'accordo di Parigi che citava e via dicendo, per vedere di stare entro un limite e tra poco ne discuteremo, cioè un limite del riscaldamento negli anni successivi. In questa partita del riscaldamento globale c'è il rischio di fare molta confusione e faccio riferimento ai dati di questi giorni perché l'opinione pubblica è spinta evidentemente a dire ma che diavolo di riscaldamento abbiamo in corso quando in Europa e in Italia stiamo osservando un maggio sicuramente anomalo, freddo, con le nevicate, quello è il titolo del giornale sulla sinistra dell'Adige, giornale nostro locale, del 5 maggio dove abbiamo avuto effettivamente delle temperature molto basse per il periodo e un'anomalia che ci ha portato delle nevicate a bassa quota. Questo grafico che vedete sull'Europa ci dà un'idea dell'anomalia di temperatura nel periodo, nei primi 20 giorni di maggio e possiamo vedere sostanzialmente dove abbiamo i colori freddi, appunto blu, verde e dove c'è stato molto più freddo, 3-4 gradi in meno della temperatura media del periodo di riferimento 1981-2010, ma vediamo che ci sono parti del pianeta, in particolare del pianeta dell'Europa in questo caso, come la Russia, dove abbiamo avuto un blocco di alta pressione con temperature elevate fino a 5-6 gradi sopra la media con punte anche eccezionali in alcune località dove sono stati osservati i valori termici. Abbiamo due notizie da dare, il primo è che è chiaro che la percezione dell'italiano o dell'austriaco rispetto a quella del russo è diversa in questo momento rispetto a quello che è successo, ma entrambe le informazioni, caldo anomalo e freddo anomalo non costituiscono di per sé un segnale climatico visto così, è un segnale meteorologico di una situazione limitata a questa fase temporale. Non bisogna confondere il concetto di tempo, situazioni meteorologiche a scala locale, come il freddo italiano e come il caldo in Russia rispetto ad un'evoluzione, a un pulsare medio, ad un trend, a un andamento climatico che si misura su un periodo più lungo. Cioè ciò non toglie che l'Europa, come la gran parte del pianeta, sia sotto una fase di riscaldamento. Poi ci sono degli episodi meteorologici che ci possono regalare situazioni di questo genere. Tra l'altro comunque legate al fatto che il clima sta cambiando, perché in effetti le anomalie di questo blocco termico a destra positivo e blocco termico negativo sull'Europa centrale, comunque sono legate al fatto che il riscaldamento anomalo, molto anomalo dell'Artico, che è due o tre volte tanto quello della media planetaria, questo riscaldamento sta cambiando la configurazione media della circolazione atmosferica alle nostre latitudini e sta cambiando un po' l'influenza sul tempo anche meteorologico alle nostre latitudini. Però molta attenzione a questo casino che si fa informativo, voluto anche, come è il caso di questi giorni, rispetto a tempo meteorologico e clima in evoluzione. Andiamo adesso a vedere questo un grado medio di riscaldamento del pianeta quanto sta incidendo. Perché è comunque importante? Sembra poco, ma faccio sempre l'esempio soprattutto ai ragazzi quando si spiegano queste cose. Passare il corpo umano da 37 gradi a 38 gradi un grado fa la differenza. Sto bene, sto male, non riesco più a fare un tubo. Anche il pianeta pulsa in un qualche modo con questo sentire. Un grado è importante, lo vediamo anche da queste prime immagini. Ma non potremo evidentemente entrare nel dettaglio, se no ci vuole una lezione di qualche ora. Vedremo alcune osservazioni degli effetti principali del cambiamento climatico in termini di aumento anche solo di un grado. E dietro a queste figure c'è un mondo di scienza che sta studiando, che sta rilevando dati, per cui un grado centigrado è comunque importante per la perdita di quelli che sono i ghiacci marini come l'Artico, dei ghiacci continentali come sono l'Antartide, la Groenlandia, le grandi catene montuose. Il degrado del permafrost, il terreno perennemente gelato soprattutto in zone come Alaska, Siberia, Canada settentrionale e via dicendo, ma anche delle montagne, le nostre montagne alle quote superiori. Il permafrost si sta degradando e sta causando una maggiore fragilità del sistema delle nostre montagne. Quello che succede agli oceani, e penso che chi lavora in cooperazione in paesi lontani dal nostro sa cosa vuol dire il livello del mare che si sta alzando, soprattutto in alcune zone, legato al riscaldamento anche degli oceani. Questi sono comportamenti medi, il livello del mare non si alza nello stesso modo da tutte le parti. Questo è solo per darvi un'idea, ho messo un grafico ma chi ha voglia di andarsela a vedere sul sito della NASA ci sono delle bellissime immagini, a conferma chiaramente con i rilievi satellitari della retrocessione dei più grandi e importanti ghiacci continentali amarini. Questo è un grafico, guardate la curva rossa, dal 1978 all'anno scorso come lentamente perdiamo la massima espansione del mare glaciale artico misurato a settembre che è il momento in cui comunque alla fine dell'estate nell'emisfero nord abbiamo in ogni caso l'espansione massima di questi ghiacci marini. È chiaro che è una discesa fatta a zizzagra, non è che tutti gli anni retrocede nello stesso modo, abbiamo momentanee riprese, poi ricrolla, riprese, però guardate il trend complessivo è evidente un segnale tendenziale di calo, di perdita piuttosto importante della massa glaciale del mare artico. I grafici di questo genere sulla NASA li vedete anche rispetto ai grandi altri plateau glaciali. Vi faccio vedere soltanto un esempio, tanto per stare al caso nostro, insomma a casa nostra delle Alpi, questo è un grafico che ho fatto vedere tante volte ma molto carino perché fatto in collaborazione Muse e il Dipartimento Protezione Civile, si vede il plateau glaciale del gruppo dell'Adamello, Lobbia, Sinistra, Mandrone, Destra e i puntini bianchi ci danno un'idea di dove arrivavano questi ghiacciai alla fine del 1800, cioè al momento della massima espansione dei ghiacci sulle nostre Alpi. La stima nostra di essere arrivati ormai a un terzo, circa un quarto dell'estensione di ghiacciai in Trentino, ma mediamente l'arco alpino ha perso la metà già dei propri ghiacciai sostanzialmente per effetto del riscaldamento. Accelerato negli ultimi 30-40 anni, dall'inizio degli anni 80 che noi siamo costantemente in perdita della massa glaciale dei nostri ghiacciai, costantemente. Dall'inizio degli anni 80, prima il segnale era ambiguo, ma da quel momento in poi è accelerato. Ogni anno perdiamo ghiaccio sui nostri platoglaciali. Il mare. Il mare si sta alzando dal 1870 al 2018, l'inalzamento medio di 25-30 centimetri, ma abbiamo delle zone, soprattutto nell'area pacifica, dove questo fenomeno sta in realtà preoccupando sempre di più, perché il mare si sta alzando maggiormente, abbiamo zone più esposte e abbiamo zone in cui si sta già programmando in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, l'evacuazione da queste zone in zone più sicure, perché comunque l'acqua entra, contamina i pozzi di acqua dolce, brucia il terreno, tra virgolette, perché è acqua salata dove si può fare coltivazione, quindi la gente non riesce più a viverci, soprattutto quando l'inalzamento medio del livello del mare viene a concorrere con fenomeni violenti, intensi, che si stanno intensificando, tipo uragani o comunque tempeste vicine al mare. L'altro aspetto del riscaldamento, quindi anche solo di questo un grado di aumento di temperatura, è l'aumento della frequenza e dell'intensità dei cosiddetti eventi meteorologici estremi, quindi piove tanto alluvioni, piove molto poco, fenomeni di siccità, ondate di calore che sono più frequenti, ma anche ondate di freddo che non mancheranno, cioè non è che sparirà il freddo, meno frequenti, ma comunque le abbiamo e via via, anche altri eventi come uragani e via dicendo. Qua c'è un elenco, adesso non sto lì a descriverli tutti, ma mi premeva dare due dati. Il caso delle alluvioni che sicuramente sono purtroppo gli eventi che ancora molto frequenti sono la causa maggiore di impatto sulle popolazioni e la causa anche di maggiori danni, soprattutto nel caso europeo i danni più consistenti arrivano dai fenomeni alluvionali, mentre i casi di decessi da noi in Europa, non è così in altre parti del mondo, sono molto più dovuti alle ondate di calore, i decessi nel continente europeo. Ma interessante, vedete anche appunto i 1600 decessi di ondate di caldo, incendi, Europa, Giappone, Stati Uniti, non a caso, ve lo voglio citare il caso dell'Europa dello scorso anno, la scorsa estate, perché è stata questa ondata di calore anomala che per esempio ha mosso l'opinione pubblica svedese, ad esempio, e quindi non è un caso che la ragazzina Grietatumberi abbia mosso la sua azione in reazione a una situazione oggettivamente che anche in quel paese appariva forse per la prima volta in maniera drastica anomala che è stato appunto questo riscaldamento anomalo e una calda e siccitosa estate l'anno scorso. E siamo entrati in pieno in questa classifica di eventi estremi sicuramente anche noi in nord-est Italia con l'episodio della tempesta avaia. Fine ottobre sulla quale non entro chiaramente in dettaglio, non abbiamo il tempo, ma solo cito due dati, poi c'è una relazione fatta molto bene dai colleghi di Meteo Trentino, per il caso del Trentino evidentemente, ma solo per citarvi 29 ottobre verso sera abbiamo quasi registrato record di, siamo andati vicini ai 200 km orari di vento, io ho fatto questa foto perché vederle dai giornali o comunque dalle tv fa un effetto, ma camminare nei boschi ne fa un altro. Quell'albero quando l'ho visto non riuscivo ad abbracciarlo, vederlo letteralmente spezzato, non crollato perché si è sollevato e ha fatto l'effetto vela l'albero, quindi ha tirato su le radici, letteralmente spezzato, cioè le radici sono state ben a terra ma un albero di questo genere spezzato, io vi assicuro è un'emozione che provi indescrivibile in quel momento quando sei a contatto, fai una passeggiata in un bosco per vedere che cosa è stata l'intensità in questo caso di questo evento. Ma proseguiamo, il 2019 è iniziato alla grande, potremmo raccontare una serie di episodi, mi preme rimanere sul Mozambico anche perché credo che ci siano delle realtà nostre che ci stanno lavorando in quella zona, poi eventualmente se avete voglia intervenite, ma è stato colpito a marzo, metà marzo, da un ciclone importante, le immagini satellitari sinistra e destra fanno una differenza tra il 2018, quindi in assenza chiaramente del ciclone, che cosa è successo dopo? Il passaggio del ciclone che ha intanto portato dentro col vento, masse di acqua marina, ma con la pioggia guardate quanta superficie si è allagata in comparazione al caso precedente. Tra l'altro dati di morti, di danni che sono difficili anche da reperire perché mi dicevano non si sa nemmeno la gente all'anagrafe se è registrato o meno, quindi non sapremo nemmeno di persone che sono apparse e hanno fatto il loro percorso nella vita in questo paese. E la cosa ancora più incredibile è che passano poche settimane e arriva un secondo ciclone, ciclone Kennet, quindi qualcosa di decisamente anomalo per un paese di questo genere che lo ha messo in ginocchio, quindi anomalo dal punto di vista climatico, ma come si diceva anche prima, paesi come questi fortemente, poi con problemi di risorse anche per affrontare quello che sta succedendo, potete immaginare che cosa può voler dire. Fenomeni che non rischiano tanto di aumentare in frequenza, ci dice la scienza del clima, ma in intensità sì. Io ho sentito un ricercatore di Trieste, Filippo Giorgio, un grande ricercatore, un climatologo italiano, dire che usare il termine ci dobbiamo aspettare eventi di inaudita intensità, cioè qualcosa che non abbiamo mai visto finora con misure che abbiamo all'ordine del giorno. Altri impatti che osserviamo sono gli impatti evidentemente sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, non entro nel dettaglio, ma possiamo aprire ormai riviste scientifiche o anche non solo, ma una continua citazione di quello che sta succedendo sugli ecosistemi, qui cito il caso degli insetti piuttosto che degli incendi che colpiscono le foreste, quindi quali sono i danni da questo punto di vista che colpiscono alcuni paesi più sicuramente di altri. E vorrei citare, perché è l'altra faccia della medaglia, questo rapporto uscito da pochi giorni dall'organo all'interno all'ONU che proprio raccoglie il mondo scientifico attorno al controllo della biodiversità e degli ecosistemi, con dati che sono incredibili e che sono stati posti all'attenzione dell'opinione pubblica, qualcuno li ha citati, forse non approfondendoli nella maniera sufficiente, ma quando si parla di declino pericoloso della natura senza precedenti, tassi di estinzione che accelerano, con dati che sono impressionanti, il 75% dell'ambiente terrestre e il 66% degli ambienti marini gravemente modificato a causa dell'azione umana, abbiamo un'idea di quella che diceva prima nell'introduzione essere un po' una catastrofe verso la quale ci stiamo muovendo. Sotto accusa agricoltura, produzione di carne, pesca in particolare, attività che come vedremo sono strettamente collegate anche alle cause del cambiamento climatico, quindi i danni sugli ecosistemi che l'umanità sta inducendo sono l'altra faccia della medaglia dell'impatto ambientale e l'altra faccia è proprio il cambiamento climatico. Lo schema in un qualche modo che ci porta a capire come il cambiamento climatico incide poi sulle attività umane è un po' questo semplificato, ma abbiamo chiaramente, dobbiamo distinguere quelli che sono eventi cosiddetti estremi o intensi che agiscono in maniera rapida, in maniera immediata, facilmente anche rilevabile, come può essere un uragano, come può essere la tempesta vaia, a danni invece che sono causati in maniera molto più lenta sui servizi ecosistemici. In entrambi i casi abbiamo poi delle tipologie di impatto socio-economico, nel primo più facilmente misurabili, riscontrabili, nel secondo un po' più difficile osservare, un po' più difficile anche far capire invece l'importanza che hanno in termini anche di danno socio-economico e quantificarli. Da questo lo schema della logica dei cambiamenti climatici ci porta a tutto quello che è il tema della insicurezza, perché chiaramente queste difficoltà, questo impatto dei cambiamenti climatici veloce o lento porta a problematiche poi di competizione alle risorse che ci servono per vivere, livelli di competizione che possono essere gestiti, rischi di conflittualità che evidentemente possono essere gestiti in contesti strutturati o che hanno risorse per farlo, in altre invece no. Di questo poi ne parleremo con i colleghi in maniera più approfondita successivamente e vedremo qual è la portata di questi effetti. Io cito soltanto dal punto di vista dei numeri che sono strettamente legati al cambiamento climatico, alcuni numeri, proprio due veloci, legati al problema delle migrazioni. Migranti ambientali, qui poi probabilmente se ne parlerà, ma che ha una complessità anche di descrizione anche solo dal punto di vista giuridico, ma che per quanto mi riguarda adesso strettamente legata al problema clima è quando, quindi per qualche evento climatico lento o repentino, come abbiamo detto prima, costringe in un qualche modo la gente ad andarsene via in maniera temporanea o definitiva, stando all'interno del proprio paese, che in realtà sono i numeri maggiori, o andandosene fuori dal proprio paese, ma i numeri sono di questo genere. Solo dovuti a eventi meteo estremi, 157 milioni le persone che hanno dovuto andarsene via tra il 2008 e il 2014, e le stime future solo dovuto al problema del degrado delle terre e quindi ai fenomeni di siccità, quindi lento cambiare del clima e incidenza su alcune zone, si parla di 135 milioni di persone nei prossimi 30 anni. Fatta questa panoramica fisica, andiamo a vedere l'altra faccia della medaglia, che è la questione del ruolo antropico, cioè come stiamo incidendo. E qui dobbiamo entrare nella partita ovvia, che forse conosciamo, dei gas ad effetto serra. I gas ad effetto serra sono i più importanti in idride carbonica, metano, ossidi di azoto, che sono aumentati dall'inizio dell'era industriale. Come sappiamo, meno male che ci sono i gas ad effetto serra, che rendono in maniera naturale il pianeta più caldo di quello che altrimenti sarebbe, fanno l'effetto di copertina assorbendo parte della radiazione che viene riemessa dalla terra. Il problema è che appunto, grazie all'attività umana, negli ultimi due secoli dall'inizio dell'era industriale, abbiamo di fatto inspessito questa copertina. Più gas a serra, più riusciamo ad intrappolare il caldo sul pianeta. Ora, vedete da questa torta, che è quello che ci interessa, la maggior parte della responsabilità del riscaldamento antropico è dovuta all'anidride carbonica, 65%, 17% metano e meno gli altri gas. È evidente quindi che l'attenzione maggiore la poniamo sull'anidride carbonica. Questo quadro, questa torta, ci dà un'idea da dove arrivano complessivamente i gas serra, cioè quali sono le attività umane che più incidono nelle emissioni di gas serra. vediamo l'elettricità, produzione di calore al 25%, agricoltura, deforestazione 24%, trasporti al 14%, industria a 21% e via via gli altri. Questa è una media planetaria, poi ogni paese e ogni realtà ha ovviamente degli spostamenti su queste percentuali. Per esempio l'Italia ha molta più incidenza del ruolo dei trasporti, siamo a circa il 24% della responsabilità delle emissioni e è uno dei pochi settori purtroppo in aumento come trend di emissione di gas serra dall'ultimo rapporto dell'ISPRA. Come sta andando sta benedetta CO2? Queste sono le concentrazioni misurate in libera atmosfera. È il famoso osservatorio di Mauna Loa, isole Hawaii, da quando è iniziata una misura continua dal 1958 all'anno scorso. Vedete che è un trend continuo. Abbiamo sorpassato la soglia delle 400 parti per milione di molecole di CO2 in un milione di molecole di atmosfera. Il 2018 la stima, adesso dovrebbe uscire a breve il rapporto complessivo del progetto che segue le misure di anidride carbonica, ma siamo sui 407-408 parti per milione, ma già la proiezione sul 2019 di aggiungersi ulteriori 2-3 parti per milione. Quindi siamo a dei livelli incredibili, al punto che la scienza che studia il clima del passato ci dice che dobbiamo tornare indietro a circa 3-4 milioni di anni fa per avere simili valori di anidride carbonica in atmosfera. Solo che all'epoca avveniva in processi molto lenti, qui lo stiamo facendo in due secoli. Da dove arrivano questi gas serra? Allora, in maniera un po' anche qualitativa, l'anidride carbonica arriva essenzialmente dall'utilizzo dei combustibili fossili, carbone, petrolio, gas, ma anche dalla deforestazione e dal cambio di uso del suolo. Metano e ossidi di azoto invece arrivano essenzialmente dalle produzioni agricole e zootecniche intensive, risaie e via dicendo, cambi uso del suolo e via dicendo. Anche qua ci potremmo parlare delle ore, ma non possiamo farlo, ci interessa adesso un'analisi un po' qualitativa. Quindi se dovessimo fare una semplificazione, i due macrosettori maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra sono il settore energia e il settore cibo. Quindi come produciamo, come consumiamo energia e cibo, si gioca la partita delle cause del cambiamento climatico e quindi ci siamo in pieno come responsabilità differenziate tra i vari paesi del mondo. E apro le finestre che poi saranno in realtà discusse dai colleghi successivamente, non dimentichiamo che dietro alla partita energia, dietro alla partita cibo, ci sono partite pesanti legate ai conflitti per accedere a queste risorse, legate per esempio al problema dell'accapparramento delle terre, dell'acqua in questi contesti, al ruolo delle multinazionali. Penso che poi se ne discuterà in un secondo momento, ma è una finestra importante per far capire che la partita è un pochino più complessa di quella e le responsabilità sono un pochino più evidenti, soprattutto per quanto ci riguarda come paesi occidentali. Andiamo a vedere cosa sta succedendo alle emissioni di gas sera e perché siamo un po' preoccupati. Queste non sono più le concentrazioni misurate in atmosfera, ma sono le emissioni stimate del principale gas sera, anidride carbonica, proveniente dalle attività essenzialmente legate ai combustibili fossili, che è la partita che più ci interessa. È il dato dal 1989 all'anno scorso, vedete che è un trend continuo, c'è a un certo punto la curvetta scende attorno al 2007, crisi economica, quindi vedete come è strettamente legata la questione clima, alla questione economia, poi attorno al 2015-2016 avevamo speranza di essere arrivate finalmente al picco delle emissioni di gas sera, ma gli ultimi due anni invece stanno dando dei valori purtroppo in controtendenza, il nuovo aumento delle emissioni della CO2 proveniente dai combustibili fossili. Questo è un progetto, il Global Carbon Project, che puntualmente arriva poco prima delle COP, delle conferenze sul clima, mese di ottobre, ed è quello che mette in crisi i negoziati, però sono i dati scientifici di base. Vediamo velocemente alcune considerazioni di carattere economico, se vogliamo, cioè chi sono le maggiori responsabilità di queste emissioni di gas sera? Sono messe a confronto le prime quattro economie a livello planetario, Stati Uniti, Cina, Europa e India. Dal 1958 all'anno scorso sono le emissioni sempre del principale gas sera CO2 da combustibili fossili, vedete che oggi il più grande emettitore è la Cina, che ha avuto dall'inizio del 2000 un boom, una crescita incredibile, altro che esponenziale, ha cominciato ad andare a carbone, a sviluppare il boom proprio economico, però negli ultimi 3-4 anni ha sostanzialmente stabilizzato le sue emissioni. A fatica Stati Uniti e Europa tendono a scendere, l'Europa comunque purtroppo ha avuto un ulteriore incremento nell'ultimo anno, l'India continua a crescere. C'è un dato che però dà un po' più giustizia di questo, che sono le emissioni per zucca, procapite, andiamo a vedere come cambia la situazione. Per zucca le cose si ribaltano un pochino, perché gli Stati Uniti sono quelli in alto, che hanno una responsabilità che è doppia, quasi tripla, di emissioni di gas sera CO2 rispetto agli altri paesi, seppur in calo. E vedete la cosa interessante è che la Cina è esplosa come crescita anche per cinesino medio, ma negli ultimi 3-4 anni il cinesino medio conta quanto noi. Curiosa questa cosa, siamo ugualmente responsabili dell'emissione del principale gas serra. E poi arriva l'India dopo. Andiamo a vedere adesso la somma stimata delle emissioni dei gas serra dall'inizio dell'era industriale ad oggi. Domandona, mettiamo a confronto le quattro economie, secondo voi chi è il maggiore responsabile delle emissioni storiche fatta la somma? Chi ci aspettiamo che appaia come il più responsabile? Chi? Bravo. Hai studiato, non mi hanno fregato. Dice, ma qua c'è gente preparata, lo so. L'Unione Europea, 28% qua sotto, Stati Uniti 25, la Cina al 13%, meno della metà della responsabilità dell'emissione di gas serra dell'Unione Europea. Queste cose sono le cose su cui litigano quando fanno i trattati. Il cinese dice, sì, io sono la maggiore responsabile adesso, i miei casini adesso, però i casini storici li avete fatti voi, non io, con la vostra economia, ce lo dice l'Unione Europea. E di queste cose discutono. L'altro dato incredibile, questo un pochino più complesso, ma vedrete che il confronto finale è estremamente interessante, ci mettiamo ad andare a vedere i flussi cosiddetti delle emissioni di CO2, i principali flussi, 16 principali flussi, dal paese dove viene prodotta una roba e quindi emetto il gas serra, al paese in cui viene consumato quel prodotto, quel servizio. Allora, guardate i due freccioni azzurri più grandi, parte dalla Cina, vanno agli Stati Uniti, 386 megatonnellate di CO2, è un po' nascosto, ma il secondo freccione grosso parte dalla Cina all'Europa. Che cosa ci dice questo grafico? Che la Cina è sì il più grande emettitore di gas serra, questo è un dato ancora di qualche anno fa, forse adesso è un pochino cambiato, perché stanno consumando un po' più anche loro, ma consuma, cioè emette gas serra, è il principale emettitore di gas serra, ma per prodotti che continuano ad essere consumati qui, in Europa e negli Stati Uniti. Questo è un dato importante perché hai voglia che a Copenaghen cominciamo ad andare in bicicletta, è una bellissima cosa, ma se continuiamo a delocalizzare, a far produrre agli altri il gas serra, la cosa non funziona tanto bene. Cosa ci aspetta per il futuro? Sempre il Goban Carbon Project ha presentato questo dato piuttosto inquietante, che è quello che ha un po' messo in difficoltà, soprattutto il mondo politico. Stiamo sempre parlando delle emissioni osservate di CO2 da combustibili fossili, gli scenari futuri. Vedete la curva nera a sinistra, è la verità, cioè quello che abbiamo misurato dal 1980 al 2017. Poi partono un'infinità di curve colorate, che è la stima di quelle che potranno essere le emissioni dei gas serra fino al 2100 e quindi con diversi scenari di carattere politico, economico, sviluppo demografico. Quindi se saremo bravi andremo sulla curva Lilla, che è quella più bassa, emissioni, picco di emissioni e poi le facciamo crollare. Se siamo meno bravi andiamo in su. A fianco a destra vedete una stima dell'aumento delle temperature associato a questi possibili scenari. Quindi a destra qui in basso vediamo gli scenari a 2-3 gradi di aumento della temperatura a fine secolo rispetto all'era preindustriale, ma gli scenari più inquietanti sono quelli lassù a 4-5 gradi di aumento della temperatura. Siamo proiettati per il momento ad un aumento di fine secolo tra i 3-4 gradi, cioè tre volte, quattro volte quello che sta già succedendo adesso, quindi non è una situazione ottimale. L'accordo di Parigi, che vedremo tra poco rapidamente, ci dice che sostanzialmente gli scenari che dobbiamo percorrere per stare al di sotto dell'aumento di 2 gradi a fine secolo e possibilmente stare al di sotto di un grado e mezzo per evitare di andare in soglie fisiche irreversibili per il pianeta, ci inducono a dover scegliere quegli scenari, che sono gli scenari di rapido picco delle emissioni e poi farlo crollare. Ma non siamo in questa direzione. Che cosa sta facendo la comunità internazionale? La comunità internazionale si sta muovendo da tempo, sono forse termini che già conoscete, sul percorso della mitigazione, cioè dobbiamo ridurre queste benedette emissioni di gas serra, ma siccome i casini li abbiamo, purtroppo non possiamo evitarli, adattamento vuol dire cercare di ridurre gli impatti possibilmente dei cambiamenti climatici. Quindi evacuare da un'isola che si sta allagando è una misura di adattamento al cambiamento climatico. Già nel 1994 la comunità internazionale ha messo in piedi questa convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, intuendo che già in quel momento c'era un problema crescente attorno al cambiamento climatico, la comunità internazionale possiede uno strumento operativo, che sono le famose COP, conferenze ONU delle parti sui cambiamenti climatici. Ogni anno si trova la discussione aperta, adesso devo farla breve, in tutti questi anni per arrivare sostanzialmente il più possibile a trovare delle modalità di accordo su come agire sul clima. Siamo arrivati alla 24esima edizione che è stata in Polonia, la prossima nel prossimo mese di dicembre sarà in Cile e abbiamo la candidatura italiana per il 2020 a Milano, notizia recente di pochi giorni fa. L'appuntamento più importante sicuramente è stato il numero 21, edizione 21 2015, la COP di Parigi, perché è stato il momento in cui finalmente i paesi a livello internazionale hanno firmato questo accordo globale sul clima. Due dati curiosi. Sarebbe interessante vedere questa spina nel fianco che è stato un documento di grande importanza, quella laudato sì di Papa Francesco, uscito nel mese di giugno, strategicamente qualche mese prima che si discutesse dell'accordo sul clima di Parigi, perché ha messo pesantemente il dito nella piaga su cause antropiche e ruolo dell'economia, ruolo della società nel cambiamento climatico, cosa che il documento di Parigi, per esempio, non farà. Tratterà di tutta una serie di obiettivi, ma il mettere in discussione il sistema che il cambiamento climatico sta causando, non c'è una riga che parla di questo. Ma guardate i dati. Se l'accordo è stato provato nel 2015, per arrivare a renderlo operativo si sta aspettando il 2020. Quindi il processo quanto è lungo della trattativa internazionale rispetto ad una urgenza che abbiamo di agire da questo punto di vista. L'accordo sul clima di Parigi dice essenzialmente tre cose. La prima l'abbiamo già detta, quindi dobbiamo stare al di sotto dell'aumento dei 2 gradi centigradi, fare gli sforzi per stare sotto 1,5, questo l'abbiamo già detto, e quindi dobbiamo raggiungere un picco delle emissioni il prima possibile. Questo lo esprime in maniera qualitativa il testo dell'accordo di Parigi, non dà un numero da questo punto di vista, ma la cosa importante dell'accordo di Parigi che lo ha fatto partire è stato che invece di imporre delle condizioni di riduzione delle emissioni di gas serra è stata fatta una proposta volontaria. Quindi ciascun paese, ciascuna parte, noi siamo presenti come Unione Europea, ha fatto una proposta di riduzione delle proprie emissioni di gas serra che dovrebbero essere riviste ogni cinque anni e la prossima revisione fondamentale è nel 2020. La domanda con risposta ovvia è, secondo voi, questi contributi volontari che ha offerto ciascun paese sono sufficienti per stare al di sotto della soglia di 2 gradi di aumento di temperatura? No, evidentemente. Qui è la grande critica della società civile, degli scienziati, perché c'è un grido d'allarme. L'accordo di Parigi è un buon punto di partenza, ma non basta nella maniera più assoluta, e questo lo sappiamo. Sono passati tre anni, intanto c'è stata la COP in Marocco, la COP in Germania, la COP in Polonia, tutte conferenze fatte per la difficoltà di mettere in pratica l'accordo di Parigi, quindi mettere in pratica i regolamenti, stendere i regolamenti, una complessità, ma il tempo passa. Il tempo passa, si sta discutendo anche su tutta un'infinità di altre tematiche, che sono importanti per noi, che si fa cooperazione, sono importanti. Non c'è soltanto l'adattamento e la mitigazione, ma si parla di land use, capacity building, finanza, tecnologia, giovani, ruolo delle donne, ruolo delle comunità indigene, obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci sono un'infinità di tematiche che sono correlate al cambiamento climatico, che sono all'interno della discussione, anche dell'accordo sul clima di Parigi. Non possiamo adesso entrare nel dettaglio, ma probabilmente degli accenni verranno fatti nelle relazioni successive. Scienza, perché mi interessa la scienza? Perché qui arriviamo all'ottobre dell'anno scorso, prima dell'ultima COP, esce un rapporto inquietante. L'Intergovernmental Panel on Climate Change fornisce un rapporto, che è l'organo di riferimento della scienza internazionale, esce con questo rapporto per dirci a che punto siamo rispetto alle azioni che stiamo mettendo in campo per stare o no al di sotto di sto benedetto aumento della temperatura di un grado e mezzo a fine secolo. E il mondo scientifico ci dice questo. Potremmo raggiungere un grado e mezzo entro il 2030-2050. Nell'ipotesi peggiore, se andiamo avanti con le emissioni attuali, nel 2030 ci siamo dentro. Da qui l'esagerazione dei giornali, mancano 12 anni, mancano 11 anni e poi è la fine del mondo. È un pochino esagerata, ma comunque abbiamo poco tempo per invertire la rotta. E gli scienziati ci dicono, per limitare il riscaldamento a un grado e mezzo, occorre ridurre le emissioni del 45% rispetto al 2010 entro il 2030 e raggiungere emissioni zero entro il 2050. È qualcosa di titanico. Al punto che parole dello stesso rapporto serve un'azione rapida, lungimirante e senza precedenti per limitare il riscaldamento a un grado e mezzo ed evitare i casini che abbiamo già sugli ecosistemi e sulla vita dell'essere umano. E il tempo? Ne abbiamo poco. Forse anche per me, dimmi quando devo 10 minuti. Perfetto, quindi ok. Allora, in conferenza stampa, questa ricercatrice, Debra Roberts, in conferenza stampa dell'IPCC, quando ha presentato il rapporto dello speciale rapporto un grado e mezzo, ha detto queste parole. Le decisioni che prendiamo oggi sono fondamentali per garantire un mondo sicuro e sostenibile per tutti, sia ora che in futuro. E letteralmente, i prossimi anni saranno probabilmente i più importanti della nostra storia, intesa come storia dell'umanità. Non briciole. Debra Roberts. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo muovere verso una transizione energetica enorme. Queste sono ormai cose che sappiamo. Ma lo stesso rapporto ci dice che non ci sono impedimenti fisici, chimici, dal punto di vista tecnologico. Abbiamo già delle carte che ci stiamo giocando come pianeta per poter raggiungere questi obiettivi. Il problema, ci dice il rapporto, è un problema di volontà politica. È questo il nodo. Serve uno sforzo in mano di cooperazione, quindi credo che in questo senso abbiamo tanto da insegnare, avete tanto da insegnare col lavoro che si fa, e di responsabilità, evidentemente, a livello internazionale. Sappiamo che i settori che devono essere pesantemente modificati sono il settore energetico, industriale, dei trasporti, della produzione alimentare, con tutta una serie di misure che straconosciamo, che sono gli obiettivi dei prossimi anni. Cessare via fonti fossili, favorire efficienza energetica, diffondere le energie rinnovabili, la riforestazione, la grande attenzione che dobbiamo porre al fermare il taglio delle foreste e riforestare dove è possibile, ma evidentemente abbiamo un grande imperativo, che è quello di un cambio radicale di un sistema di consumi, di un sistema di impatto e di stile di vita che abbiamo, soprattutto in una parte del pianeta. Evidentemente, questo lo sottolinea, il rapporto dell'IPCC scientifico, stare negli obiettivi, nella difesa, chiamiamo così, del cambiamento climatico, incide tantissimo nella possibilità di raggiungere i famosi obiettivi di sviluppo sostenibile. C'è una fortissima correlazione tra i due elementi, quindi l'azione del clima e l'azione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Non entro nel dettaglio, ma cito soltanto, perché probabilmente verranno fuori dopo, alcune delle sfide più importanti sui diritti umani, sul ruolo dei popoli indigeni, sul ruolo delle donne in questa partita che si sta giocando, in tutti i contesti internazionali. E a proposito del discorso politico, chiudo, facciamo un po' di... se manca poco, ridiamo se si può. Non ho messo leader politici europei, perché siamo quasi in par condicio, non si può. Però, volontà politica, è chiaro che io, come Paolo, che qua con me eravamo alla Coppa di Katowice in Polonia, queste tre figure, Presidente Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, insieme a Kuwait, sono stati i paesi che hanno cercato di bloccare l'assunzione del rapporto dell'IPCC, che ho fatto vedere precedentemente, come elemento fondante della discussione dell'accordo di Parigi, dell'accordo sul clima, tra le parti a livello internazionale. Sono i quattro maggiori produttori di petrolio. C'è stata una reazione molto forte da parte degli altri paesi, ma è evidente che in questo momento, di fronte alla gravità della partita che ci stiamo giocando, non possiamo non vedere che non abbiamo leadership politiche che ci stanno dando la possibilità di vedere un futuro rosio, purtroppo. e questo la scienza che era là presente se l'è detta, cioè come possiamo, cioè guardiamoci davanti alla realtà, abbiamo bisogno di agire urgentemente, abbiamo questi signori che agiscono. E c'era lo spettro di quel signore là in basso a sinistra, che a Katowice era stato appena eletto, quindi la delegazione brasiliana non era presente, era ancora quella precedente, erano un po' depressi, perché sapevano che sarebbe cambiata la questione della partita al punto che il Brasile avrebbe dovuto ospitare la prossima COP l'anno prossimo, siccome lui vuole uscire dall'accordo di Poligno non gliene frega niente, e poi è intervenuto il Cile, quindi è stata presentata la candidatura del Cile l'anno prossimo. Ed è l'uomo che ha aperto di nuovo il serbatoio dell'Amazzonia come serbatoio a servizio dell'agrobusiness a livello internazionale. Quindi torniamo al discorso energia, cibo come elementi che sono purtroppo il lago della bilancia della situazione che ci stiamo giocando. E allora, quando una Greta Thunberg davanti alla ragazzina svedese di 16 anni, arriva davanti alla COP e dice una cosa di questo genere, siamo di fronte a una minoranza di persone che per difendere i propri interessi economici provoca danni che sarà la maggioranza a dover sopportare, dice che il re è nudo, ma non dice niente di cose che non sappiamo, ma dice una banale verità che ha dichiarato ragazzina di 16 anni davanti alla platea delle delegazioni internazionali alla COP di Katowice. Vado a chiudere, perché credo sia il momento, con le ultime proprio due slide. La cosa che mi preme è che in questa politica abbiamo anche bisogno di lanciare un messaggio in un qualche modo positivo, cioè agire sul clima oggi più che mai ci deve portare a far capire che andiamo verso il tentativo, l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nostra e del resto del pianeta, della parte del pianeta che è ai margini di questa partita. Questo dovrebbe essere il grande sforzo, non ci stiamo cercando di castrare rispetto a un percorso che abbiamo fatto di tipo economico, sociale o quel che sarà, che poi ci spiegheranno bene. Stiamo lavorando per stare meglio, per un bene essere futuro, nostro e possibilmente del resto del pianeta che fino adesso è rimasto ai margini o anzi ha subito le maggiori conseguenze dei cambiamenti climatici. Questa Amitav Ghosh sopra ma sotto di nuovo una ragazzina di 16 anni che ti dice se le soluzioni all'interno di questo sistema sono così impossibili da trovare forse dovremmo cambiare il sistema stesso. Io mi auguro che possiamo noi di cooperazione dare come attori un grande contributo da questo punto di vista e chiudo proprio con questa. Sono stati degli scienziati, adesso non mi ricordo perché è un nome tedesco per me impronunciabile, ma uno dei più grandi scienziati del clima che tra l'altro ha curato la parte introduttiva della Laudato Si del Papa che a un certo punto eravamo in una conferenza in 40 poveri cristi climatologi, io ero proprio il minore, il più infimo dei climatologi, quelli erano seri, che ha detto a un certo punto abbiamo bisogno probabilmente di un big bang sociale. Ho usato questo termine, c'è un grosso, una grossa scossa di tipo sociale perché appunto di fronte a quella leadership politica che abbiamo davanti, perché è la politica che si deve muovere, abbiamo poche chance da questo punto di vista di invertire la situazione in tempi così brevi come la scienza del clima ci sta urlando da ormai troppo tempo. Spero di un assenato perfetto, boh, mi fermo qua, grazie. Riprendo qualche punto, soltanto qualche punto della sua ricca relazione partendo dalla domanda iniziale ripresa da Gauche, perché non riusciamo o non vogliamo vedere ciò che sta succedendo? Questo impensabile, perché è difficile pensare questo? fondamentalmente, credo che sia una domanda che non è possibile trascurare, non è possibile ascrivere la responsabilità all'esterno, c'è anche una questione di fondo. Il secondo punto riguarda la controintuitività, quando Roberto Barbiero dice attenzione a distinguere il tempo meteorologico dal clima, sono due nozioni e due situazioni diverse, ci dice che pensare a un impatto del cambiamento climatico con queste proporzioni, con questi numeri, è qualcosa di controintuitivo, cioè nella nostra vita quotidiana, tranne quando ci sono degli eventi così catastrofici come quelli richiamati, non è così facile prenderne atto. Io vivo a Torino, in una città metropolitana, urbana, se penso alle persone che incontro per la strada quotidianamente, la percezione della gravità del cambiamento climatico certo non è così diffusa, fondamentalmente. Quindi, questo ci riporta a terzo punto anche a come costruire un'opinione pubblica sensibile al tema, come, non se, costruire un'opinione pubblica sensibile al tema, cioè su cosa si può far leva. E da questo punto di vista, l'ultima considerazione di Roberto Barbiero mi sembra molto interessante, cioè si tratta di agire sul clima per migliorare la qualità della vita, non soltanto, soltanto tra virgolette, per arrestare una catastrofe, cioè non è soltanto un gioco a ribasso, ma è anche un gioco di miglioramento. Certo, poi questo ci porta alla domanda ma miglioramento per chi? Perché gli interessi in gioco, come abbiamo visto, sono davvero notevoli. Tutta questa faccenda, permettetemi questo termine gergale, ci chiama in causa un elemento decisivo, ossia che quando parliamo di cambiamenti climatici chiamiamo in causa di fatto il paradigma dello sviluppo occidentale. Questa non è una questioncina e anche i dati e la portata storica presentata da Barbiero ce lo rende evidente. Stiamo parlando del nostro paradigma di sviluppo, in particolare delle nostre politiche energetiche, delle nostre politiche agricole, eccetera, eccetera. Ma la questione in gioco è come noi occidentali abbiamo considerato il rapporto natura-cultura, fondamentalmente. In ultimo, ringrazio ancora Roberto Barbiero per averci aiutati a poggiare le nostre considerazioni, le nostre tesi su dati, anche quantitativi, anche scientifici. Ci sono ricerche, ci sono percentuali che ci aiutano a costruire scenari. Questa è un'operazione che dovremmo fare sempre, ma che talvolta, data la società mediatica, la sfera mediatica in cui siamo immersi, non siamo così inclini a fare. Abbiamo un po' perso l'abitudine. a far poggiare le nostre considerazioni su dati, flussi, anche di natura quantitativa. Ringrazio molto Roberto Barbiero e se ci saranno domande, richieste di approfondimento, lo vedremo a conclusione.